Rodari Saint-Ton. Gianni Rodari, cento anni. Le favole al telefono. Histoire sur téléphone. Buongiorno a tutti. Oggi leggeremo il racconto Il paese collesse davanti. Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia capitò nel paese con l'esse davanti. Ma che razza di paese è? domandò un vecchio cittadino che prendeva il frisco sotto un albero. Il cittadino per tutta risposta cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. Vede questo? È un temperino rispose Giovannino. Tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Ah, magnifico, disse Giovannino. E poi? Poi abbiamo lo staccapanni. No, scusi, vorrà dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca ma non deve mica andare a comprarla, passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate, c'è quello d'inverno. C'è quello per uomo e quello per signora. Così risparmiamo ma tanti di quei soldi. È una vera bellezza, disse Giovannino. E poi? Poi? E poi abbiamo la macchina sfotografica che invece di fare le fotografie, fa le caricature. Ma così si ride tutti. Poi, poi abbiamo lo scannone. Che paura fece Giovannino? Ma tutt'altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E scusi, come funziona? È facilissimo. Può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba. spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Ma ditemi un po', che meraviglia è il paese collesse davanti? Arrivederci a tutti negli splendidi paesi di Gianni Rodari. Grazie. 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 Grazie.